SIGNORI 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 Oh, ma che birbante! Per la signora più bella del reggimento, eh, Crowley? Siete un diavolo fortunato. L'avete scelta abbondante dove serve, eh? Oh, si è cambiata d'abito! George, guarda quanto è bella! Le signore hanno tutte un bouquet. Tu perché non hai un bouquet? Cielo, forse perché non gliene avete comprato uno? Lasciali stare, avanti. Ilipino 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 Tutto Ilipino Grazie a tutti.